L'amministrazione di Gianluca Bonsignore ha stanziato 10.500 euro per eliminare il pericolo derivante da rischio idrogeologico dell'area sud del cimitero di Patti Centro al momento transennata. La proposta è del vice sindaco Eliana Raffa e notorio come questa zona da tempo sia stata interessata da fenomeni di dissesto coinvolgendo il muro perimetrale di recensione localizzato tra il bivio della strada statale 113 e la strada provinciale 132 in direzione montagna reale. A tutt'oggi il muro risulta puntellato per evitare danni ad alcune cappelle gentilizie e c'è il serio rischio che il muro precipiti e si porte appresso cappelle e tombe. Poiché gli eventi atmosferici hanno ulteriormente compromesso la stabilità idrogeologica del sito si è reso necessario e urgente un intervento di consolidamento per scongiurare ogni rischio. A breve si interverrà ancora nell'area del cimitero del centro per ripristirare la funzionalità delle strade interne, vialetti e passaggi spesso compromessi anch'essi da dissesti. Per il cimitero del centro c'è il project financing che era stato proposto dall'amministrazione di Maura Quino che prevedeva anche la realizzazione di una nuova zona cimiteriale ma bisognerà verificare se l'attuale esecutivo vorrà continuare su questa linea oppure decidere di intervenire in un altro modo.